ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video come lo scorso anno vi porto un riassunto dei dei guadagni di youtube nel 2023 ovviamente se siete interessati a quello che ho portato lo scorso anno vi lascio il link nella scheda che compare quassù questo video è anche un modo per ringraziarvi sia che mi seguiate da molto tempo sia che siate qui appena arrivati e se invece ancora non siete iscritti vi invito a farlo attivando anche la campanella per non perdervi i prossimi video prima di svelarvi le cifre però c'è da dire che nel 2023 sono stata tutto tranne che costante con buchi anche di mesi tra cui dall'altro in particolare tra metà tra metà aprile e giugno da fine luglio a metà settembre e anche nel mese di ottobre cosa che ha ovviamente pesato non poco sul risultato finale lo scorso anno inoltre dicevo che sarebbe cambiato il metodo di monetizzazione degli shorts e che avrebbero dovuto far guadagnare di più ma mi sbagliavo assolutamente di grosso qui a fianco vedete una ripresa da youtube studio di una parte di youtube del mio youtube studio che vi mostra la rpm ovvero le entrate per mille visualizzazioni in questo caso nelle ultime quattro settimane ovvero a gennaio ed essendo appunto questo mese vi avverto che il dato è normale che sia basso e come vedete la differenza tra i due i due dati abissale in media un euro e 59 ogni mille visualizzazioni per i video lunghi e soltanto due centesimi per gli shorts lo scorso anno ho anche avuto la possibilità di attivare i grazie con cui chi trova un mio video interessante può fare una donazione libera ma ancora non ho entrate con questa modalità stesso discorso per gli abbonamenti a 99 centesimi al mese che però forse solo da questo gennaio sono un pochino più appetibili perché per spronarmi anche a pubblicare più costantemente vi do l'accesso anticipato ai video che poi diventano comunque pubblici il venerdì alle 18 detto questo è arrivato il momento di svelarvi quello che ho guadagnato nel 2023 rullo di tamburi lo vedete qui sono arrivata a quasi 60 euro che con le premesse che ho fatto sono una cifra di tutto rispetto almeno per quanto mi riguarda per i curiosi vi faccio vedere anche i video con i maggiori utili nell'anno con il video sulla casa nuova che ho pubblicato a novembre che ha letteralmente fatto il botto e ancora una volta vi faccio notare che gli shorts non ci sono ragazzi io ancora una volta vi ringrazio di seguirmi vi ringrazio anche di aver visto questo video se vi va lasciate un like e commentate qua sotto se volete appunto che continui anche l'anno prossimo con questa tipologia con questo video su quelli che sono i miei guadagni da youtube sperando di avere qualche soldino in più l'anno prossimo appunto visto che il buon proposito è quello di essere più costante con la pubblicazione dei video se non siete iscritti come vi dicevo vi ricordo di iscrivervi e attivare anche la campanella in modo tale da essere sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi video qua sotto in descrizione ci sono i link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure e non mi resta che darvi appuntamento la settimana prossima dicendovi come al solito have a nice life